ragazzi buongiorno a tutti ben ritrovati non ho mai niente da fare ecco perché sto facendo il gameplay dobbiamo andare dritti 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 aspetta sono dimenticato una cosa c'era un passaggio sere tra la forza dei giganti che eccoci qui però già battuti tranquilli non serve che rifacciamo rischiato che mi ammazzassero però dobbiamo andare giù che c'eravano dimenticati a quegli stronti la ora sono la poter mona aperta io pensavo si chiudesse no col cavolo ce ne sono altri non mica così stupidi è visto ma tutti fissati con la labarda e manco fossero l'arma divina a me a me io non riesco a usarle che sono anche un po lentine un danni non è non è che fanno tantissimi da aver già detto ecco comiti la pietra e qua c'è un passaggio è fatto qui c'è un forziere non mi ricordo più cosa c'è qua dentro lastra di titanitte però controllate che i muri può darsi che hanno due forziere meglio non mi porto o che c'è anello della clora utile utile in pratica recuperi energia più facile più velocemente io dico mettiamo io a questo ecco qua ora siamo messi bene vabbè te le trasportiamo di nuovo siamo tornati bene ora possiamo andare avanti si sto morendo di nuovo la malattia del canale ogni volta che c'è da quando al canale ha un oggetto non mi ricordo porta fortuna del monastero dove dov'è l'uscita ma qui ok allora è tutto buio cosa può esserci qui ovviamente i giganti con la spada ho fatto sì ho tolto ecco perché gli faccio meno danni però tutto l'anello delle lame quindi non è che cammi tantissimo un colpo in più un colpo in meno fatto è andato di qua c'è un oggetto tre oggetti anima di cavaliere l'antica alabarda l'antica alabarda fammi rivedere un attimo assista ma bevo pesante l'antica alabarda sono forti ancora l'antica alabarda sono forti a due mani non ho una mano infatti io non uso mai armi a due mani ok dico a chi è questo qui un tizio con scudo e la scudone lancia però dopo l'interno non riesco a farli così tanti danni o rep a un piacere fatto leggi messaggio cosa dice un'operata con le spalle ok cosa c'è qui polvere d'osso sublime è utile come le cose perché potenzia la fieschetta estus però devi bruciarla al fallò di maiula non negli altri fallò qua un ascensore vabbè andiamo guarda che figo la prima è più figo senza elmo sai così guardatelo senza elmo lo fa tutto mio dio di questo il resto così questa matura mi conferisce aspetta no non fa lo stesso così resti figo questo perché l'ascensore sta andando su vabbè in pratica quando ci sono pochi siamo in acqua che già ci si muove poco quella tattica a nascondersi sott'acqua là c'è un vabbè allora stico nell'1 erano la roba più bastarda esistente perché non li ammazzavi cioè erano una roba tremenda adesso sono lo schifo del gioco non ti pietrificano manco se ti metti davanti fermo così di qua non c'è niente ok andiamo avanti e cosa c'è qua qua vedo stagmiti ovunque e va a un falo fate sbaglio ho saltato qualcuno qui mhm ma giusto non sono tra bastiglia vabbè ci vado dopo dirò dopo cosa da bastiglia intanto andiamo avanti no no sta parte non mi piace tutto buio sono già gli accetti mi punta è sì io pensavo possederemo questo si gara di tremo e guardate guardate la vita guardate la vita che stiamo già morendo andiamo avanti a scudo aperto si è aperto guarda questa strada qua che cerca di nascondersi come se non sapessi che è là qua vieni qua vieni qua non posso uccidere senza sposermi e dai ma che cazzo è ah non carete giù dal puntile oggi sto facendo cagare in una maniera a pugnale da bandito inutile Bradley della vera mi hai copiato stronzo vabbè io sto senza elmo perché sono più figo così qua non conta oh sono più resistente e tengo questa no sono più figo con questa tengo questa qua oh è un peccato che non l'ho ucciso più con due colpi no no ok potete che ci sia un passaggio qua no qua non l'ho controllato molto quindi meglio controllare ora me la non può esserci niente ok non c'è niente andiamo su e qua invece neanche su ma sbaglio ah non c'è era una oh il cazzo ma sbaglio si fa colpire distruggiamo tutto ah ne è un baule distruggiamo il baule frammento di titanite vabbè io proprio non potenzio le armi quindi non mi serve un cazzo in pratica ah qui ah l'abbiamo già ucciso pure ha fatto si vogliono le torce non vado in giro con le torce non è che per sogno anche se dovrei andare in giro con questo in questo livello qua e dov'è ok io ora io di andare in acqua avrei un po' paura è la parte giusta almeno si si è la parte giusta e no perché col buio non si capisce molto e guardateli guardateli quanti arrivano guardate allora 1 2 eh ci è mai piaciuto se è stata una mostra un po' stupida fatto uccisi tutti che fatica però io mi nacco grandi anima di non morto e dai che è che sei in acqua ma guardateli mi pensa che io non sappia che è là fatto ma questo qua è tuo amico vabbè ok se no mi attacca vuol dire che è con me vedete che aspetta ah ok qua neanche qua neanche vabbè mi segue? si mi segue intanto in acqua qua non c'è niente c'è solo gente morta qua invece anche qua resino oscura vabbè sono capanne mese su un pontile come si spacca ok ora qua ecco vedete si a parte che l'avevo con il colpito nessuno ok ok finchino non andiamo lì fatto pensano di cogliermi di sorpresa è meglio così non ho paura di quello dietro quindi non cioè che parlate di che è un tipo un tipo non che più attivi serve anche per il boss ok non esitare a chiamarmi si ok 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 va bene è un personaggio utile che vi darà l'intero set se farete la side quest aspettate esatto non me lo aspettavate voi io sono Gandalf cosa cosa hanno ucciso con un colpo solo ma che pipe io pensavo cavolo ora questo qua è difficile un colpo è andato guardateli che scarsi che sono poi la resistenza delle magie ma che zero ma zero ok qua non c'è nì purrà per inutile so cosa poi so cosa provi lo so e sto cominciando con le torce che cavolo non me lo aspettavo fate che per fortuna che non c'è presi anche se si prendeva quanti danni vuoi che faccia ho pensato di prendere le spalle l'ho preso allora tutta colpa delle riachie che è realizzato se no non avrei preso danni ok anche qua sto mettendo avrei preso danni lo stesso allora visto che lì è pieno ma pieno perché lì c'è uno allora dice una cerco le ferie di fuoco e uno che ti lancia all'olio roba infiammabile quindi se ti prende sono gazzitoio e dai però ma l'ho preso 70 volte vabbè scusate come ti chiami prestami la torce un attimo e non posso visto che sono molto scarse le magie potremo potremmo sfruttarlo potremmo sfruttare sto svantaggio per colpirli sia la racere sia quello là che rompe tu si che sei un pezzo di merda no non ti colpisco perché sennò colpisce anche l'altro raccoglio oggetto ascia da fanderia ho finalmente un'ascia qua ho tutte accette e si vabbè però un'accetta l'ercia così quella là per spaccare il legno sono più forti proprio l'accetta da fanderia di soldati ma perché si vabbè se mi spari l'olio oh cazzo quello non me lo aspettavo il tizio che spara le frecce pensavo non mi avesse visto vabbè io andrei su ah già mi serve la torcia vieni qua vieni qua che mi serve la torcia ma c'è delle creature nere queste qua che se c'è il sole ma mi prendi per il culo se la torcia se l'olio ti allontani se no ah ecco no perché se no guarda come scappa no dal sole oh fatto io potrei stare con la torcia da una parte e lo scudo dall'altra e vieni qua con la luce vieni con la luce oh e si ok però e resta qui non scappare torna qui e ce ne sono due proteggimi proteggimi grazie toh e li colpiamo con le magie scappa scappa fatto come non puoi c'è la luce qua sono deboli le magie fatto è stato utile quindi se lo vedete non uccidetelo onda di forza è un miracolo e comunque stiamo consumando le magie mostro prima avanti vabbè grazie non so cosa possa non scop- ok pensavo ci fosse qualcosa invece no oh oh usa che cazzo che cazzo via 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 non pensavo fossero in tre vaffanculo io uso i dardi no vieni qua vieni qua figlio di puttana vieni qua vieni qua stai qua anche col ma che cazzo è immuno al sole e c'è la dovessi il sole e la luce oh cazzo Gandalf mi serve il tuo aiuto la luce del sole non fanno effetto a sti stronzi sono immuni eh porca puttana è andato è andato è andato è andato è andato bestia di tessuto lacero io non rintosserò mai cazzo se avessi e ti tiragli la cosa tiragli la tiragli la non so cosa cazzo fare io non posso neanche vextabarli posso sanguinamento cosa fa qualcuno me lo spiega no io non ho mai capito fatto l'ha colpito ok stiamo usando tutte le abbiamo usate tutte andiamo avanti a gemme adesso ebbè non sono scarsi sti che cazzo me ne sono trovati tre idemi voi se sono scarsi siamo un variago variaghi come cazzo fate un colpo alla volta che due e mi serve la tua luce ma perchè non perchè sono immuni alla luce ora cosa ha fatto voglio uscire il cazzato com'è spada lunga vabbè qua abbiamo già preso tutto comunque tre alla volta sono fuori discussione per me spero siano gli unici del della zona eh si pensavo di poterlo bextabare e fa i scappi fatto l'abbiamo distratto con la col so con la luce e dopo l'abbiamo ucciso spero non ci sia c'è un silenzio che ah è un mimiche allora questo non lo è perché sono sicuro sicuro e questo invece questo neanche non ero indeciso oh porca puttano peggio ancora talismano d'argento ok questo è ancora vivo credo sei immune al vereno o qualcosa di simile comunque una bella combinazione bastone spada ok qua non c'è più niente qua invece non lo so perché non lo controlla ma mi sa che non c'è niente neanche qua va bene questa area è pulita ma quella sotto non l'abbiamo ancora esplorata anche perché c'è il tizio che ci punta ci punta ancora vedetela aspetta potevo andare giù da qua che buttaglielo arca puttana dov'è ah ho capito dov'è adesso io pensavo fosse qua a me magari è anche qua qua c'è un giusto sì sì è uno solo uno solo pensavo se ne fossero due invece sì comunque cazzo dobbiamo andare a farlo perché avevi dire dopo ah perché l'ho fatto adesso mi chavo adesso mi fregano se mi sparano la presa infuocata sono il coperto d'olio non so quanto dura l'effetto uno alla volta uno alla volta orica puttana e basta con questa mania di venirmi addosso in 20 ok io credo papà che morirò qua siamo arrivati alla spiaggia ci hanno spinto nooo ma che figlio della merda ok io dico riproviamo ah quello che c'era ce n'era anche uno sopra che sparava a frecce l'ho ucciso con la balestra qua i cani sono troppi non riesco a badarli a tutti ecco ok 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 ora non sono io da avere il coso dell'olio meglio oh avete finito che cazzo possiamo mettere la spiaggia oh porca puttana quanti cazzo erano vabbè un cane due cani va bene ma tre cani più uno uno quello della scimitaria oh porca puttana lasciatemi un po' di respiro ora eh finiti si aveva preso qua ma cosa che l'ho colpito si ok vabbè è un calcio che ti rompe la guardia mentre la spada no beh sono finito ah qui scusa ma mi colpisce due volte mentre io l'ho tirato una spada che porca puttana dovrebbe essere morto da secoli si io non spreco fiaschette che già ne ho poche ma dove la spada dei vari aghi eccola qui allora in pratica sarebbe si non è male eh però pesa di più come dico andiamo avanti con questo ma come colpisce oh proviamo un po' con questa che ne so vabbè una spada vale l'altra mi dicono che quella di hide è migliore ma vabbè tanto vuole tentare cosa può andare peggio ancora mi sono dimenticato vabbè lasciamo qua vedere ripianto quindi prova torcia si vabbè non serve un cazzo quella cosa di quella trappola di faros lì non serve un cazzo si vabbè illumina vedete quel lampadario lì lo accende basta avete capito la sua utilità vedete stanno dormendo che peccato sarebbe svegliarli vero porca troia si è svegliato lui da solo no no qua muoio qua muoio no eh si si ok ok uno alla volta uno alla volta porca troia anche il tizio qua con la torsa di merda io dico scappiamo vaffanculo non me ne frega dell'olore basta essere vivo tanto tornerò prima o poi tornerò lo giuro ma sbaglio lui toglie meno questa si così quasi vediamo questa pesa meno è più forte ok ok è sopravvissuto lui bastardo ok allora io torno ok io torno però uno alla volta ecco ora sono oleato bene ora ne manca uno solo freccia di ferro bene abbiamo finito le fiaschie come sembra uno due ci ne è bastato uno qua c'è qua c'è cappuccio da brigante 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 ok dove è il cavaliere di aile si è indietro però vogliamo un po' se è bella da gay comunque lascia da bandito dovrei provarla eh beh questa si che è più forte si ok ma avete rotto il cazzo con questo non puoi usarlo perché la cosa positiva è che siamo riusciti a ammazzare questi qua non so ancora come di sopra ce n'è un'altra che ci fa l'attentato visto ci fa l'attentato si ok ma due no è già è già uno è difficile di suo insomma c'è il tizio là con la torsa non posso ucciderlo i muri le collisioni con i muri no non but me l'ha distrutto ok ce l'ho fatto comunque ho cambiato armatura me l'ha droppata a sti bastardi dannati che meritano la morte più di chiunque altro comunque basta augurare morti dobbiamo tornare su e vedere se se è davvero rotto ma vuole perché se si è rotto qua scatano i dannati qua scatano le dannazioni eterne anzi ecco così stiamo sicuri vieni qua oh ma perché ce n'era un altro primo eh ciarpame cazzo allora non colpite colpite comunque cazzo ve lo spiego i forzieri di legno colpite li sono una volta perché se li colpite due volte si spaccano e vi lasciano ciarpame che è anche inutile e ora non so io cosa c'era là dentro o spero non ci fosse una roba importante cazzo mi rivedrò qualche gameplay e vedere se cosa c'è o spero sia roba tipo frammento di titanite e cagate così perché se no allora sta parte mi sembra libera finalmente eh sì di sotto siamo andati vabbè tanto lo sono oleato che bello che bello oleato dovremo andare su che li ho già uccisi sì mi piace fare il giro largo e andare dove sono le bestie il tizio con il tizio con la torcia dai che mi serve qua è fondamentale dicendosi con l'accetta ma proviamo tanto non è da perdere tra me e 23 milanime ma non ho un cazzo di raggio non riesco a prenderli vabbè no non è il momento di fare gun alfa adesso eh porca putta ma perché mi ha preso lo stesso scusate sì io odio sti cosi con le braccia è difficile abbattere oh il gemma vitale radioso puoi vedere un po' cos'erano i non mi aveva droppato qualcosa la motura delfante eh bestie di tessuto all'acero eh però non è brutta la motura delfante si teniamoci sta qua che pesa poco quindi allora eccone un altro maldizio con la torcia dove è andato sono andato a fare in culo finalmente dietro oh poi abbiamo una una rotolata più più ampia col cazzo che mi prendi è andato a fare in culo boh sparito chi non sa comunque una torcia qua mi servirebbe oppure boh cosa sono deboli sti a essere boh non lo so e mi ha preso così che cosa cosa no è andato a fare in culo è andato a fare in culo Grazie a tutti. 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 a tutti.